Cosa fare in questo giorno di quarantena se non stare a casa a dormire sul lettino? Ehm, che posso fare in questo caso? Devi fare un video a casa! E quale video? Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video con Supercalcio. Oggi sono qui davanti a casa mia per togliervi i dubbi della quarantena, perché ovviamente nemmeno io esco e farò una challenge, cioè che praticamente dovrò fare un totto di palleggi, se li faccio non canterò una canzone, se non faccio tutti quei palleggi, quel totto di palleggi che mi segneranno, la canzone la dovrò cantare, è una penitenza. Quanti palleggi? Due. Un, due, due. Quanti palleggi sono la seconda canzone? Cinque. Eh, 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 i palleggi non ti so fare. Quale possibilità abbiamo? Sì. Adesso mi toccherà cantare, ma sono solo inceppato, li so fare cinque palleggi. Vabbè, che canzone devo cantare? Una Coca Cola con la canuccia corta. Sì. Eh, eh, Quanti c'è anni a far finta? Di novi. Mamma, mamma, com'è questa cosa? Chiese il bimbo a colazione che tutti quanti hanno la faccia rosa e la mia faccia è un cerchio marrone. Facciamo la nostra terza sfida di palleggi che sono sette. Cinque, sei, sette, sette. Tocca cantare la canzone perché ho fatto questi sette palleggi. Iniziamo la nostra quarta sfida di palleggi che sono dieci. Oh, dieci, ho fatto i undici. Rega, ho fatto così. Qua ne abbiamo questi sette. Replay. Ora ho superato questa sfida, quindi non canto, e ora però dovrò fare la mia quinta sfida. E essendo la supero dovrò cantare la canzone Che sei te. Ragazzi, devo fare dodici palleggi. Speriamo che un colpo di fortuna io non fattimo lì. Ora cantarò la canzone Che sei te. Mi levi il follower, sai quando viene fotte di notte ci dormo solo con i miei ragazzi. Vai con la conosco. Ora la bella. Dovrò fare venti palleggi che non farò mai. E ho perso. Allora, ora canteremo la canzone Certi giorni, se la fumo cantare. Iniziamo. Certi giorni sono triste, meglio stare zitti. Racconto la mia vita solo al bar, ai barristi. Certi giorni sono triste, meglio stare zitti. Oscillo tra i palazzi un po' come gli equilibristi. Racconto la mia vita solo al bar con i baristi. Ingoio dell'oro così anche dentro siamo ricchi. Bella raga è stato un bello ciao, in realtà è stato uno schifo perché non so cantare.